Adesso è ufficiale, Steven Zhang è il nuovo presidente dell'Inter. L'annuncio è arrivato attraverso un video su Twitter della società Nerazzurra. Il 26enne prende il posto di Eric Toir. Quando chiudo gli occhi vedo una città incredibilmente ricca di storie e molto ancora da scrivere, persone con idee, con la voglia di migliorare quello che li circonda e loro stessi. Una squadra che gioca oltre il campo per conquistare il cuore di tutti. Ma quando apro gli occhi vedo che tutto questo è già qui. Io sono pronto. E voi? Questo il messaggio di Zhang su Twitter. Intanto non sono attesi annunci dell'arrivo a Milano di Beppe Marotta, ancora DG della Juventus. La prossima settimana il dirigente risolverà il suo contratto con il presidente Agnelli ed il matrimonio con Zhang sarà a quel punto. Poco più che una formalità. La vittoria in Champions League contro la Victoria Plitzen non ha rasserenato l'ambiente real. Infatti, Florentino Perez sembra ormai deciso a esonerare l'ex CT della Spagna, Ullian Lopetegui, ma lo spogliatoio è ancora dalla parte dell'allenatore. Marca sottolinea gli attestati di stima pubblici nei confronti del Minister da parte di tutti i cacciatori e del resto il blocco spagnolo ha spinto in estate per l'arrivo di Lopetegui, una volta consumato il divorzio con Zidane. Di conto ormai si parla da giorni, ma dall'Inghilterra rilanciano anche il nome di Maurizio Pocettino, a lungo corteggiato la scorsa estate, ma alla fine è rimasto sulla panchina del Tottenham. E prima di virare definitivamente sull'ex CT azzurro, non è da escludere un ulteriore tentativo con il tecnico argentino? Il Real sarebbe anche disposto a pagare un max indennizio da 45 milioni di euro. Daniel Levy, presidente degli Spurs, non sembrerebbe però intenzionato a liberare Pocettino. Il pareggio in casa contro il Sassuolo nell'ultimo turno di campionato è ormai soltanto un ricordo. Domenica si torna in campo a Milano per sfidare il Milan di Gennaro Gattuso, reduce dopo la sosta da due sconfitte consecutive tra derby e gara di Coppa in Europa League contro il Betis Siviglia. Se da una parte la Sampdoria vorrà dare il massimo per continuare una striscia di risultati positivi, centrata negli ultimi quattro turni, dall'altra i rossoneri proveranno ad invertire il trend che rischia di costare molto caro al tecnico del Milan. Una sfida che per la banda di Giampaolo si preannuncia piuttosto ostica. Il tecnico di Bellinzone infatti nella sua carriera ha affrontato il diavolo per ben 13 volte con un punteggio decisamente negativo. 8 sconfitte, 3 pareggi e 2 vittorie. Numeri che però lasciano il tempo che trovano. Visto e considerato che le uniche due vittorie, Giampaolo li ha centrate proprio alla guida della Sampdoria. L'attenzione su Ander è cresciuta in modo esponenziale. Ci sarebbero infatti quattro potenze del calcio mondiale sul calciatore turco. Dopo il Bayern Monaco e l'Arsenal che hanno sondato con insistenza l'entourage, anche Barcellona e Manchester City hanno mostrato un interesse concreto per Ander. Il giovane giocatore già autore di due gol in questa edizione di Champions League. In molti già immaginano un avvio alla Roma alla fine della stagione sulla base di un principio logico del calcio mercato. Monci, di essere capitolini, diverse volte si è confrontato con la gente non tanto per prolungare la durata di un accordo già comportante, cioè fino al 2022, quanto per far crescere gli emolumenti. L'ipotesi di lavoro sul tavolo è un contratto nuovo che prevede una clausola recessoria dai 50 milioni in su. Grazie a tutti.